Si è chiuso a Rimini il ciclo di conferenze organizzato dall'Associazione Spazio Italia che ha toccato prima cattolica e poi cesenatico prima di approdare nel capoluogo romagnolo. Al centro lavoro e investimenti, prospettive di rilancio per il settore turistico. In particolare il confronto ha avuto come oggetto le difficoltà della realtà costiera di Rimini e l'opportunità di riportare il settore turistico ai fasti dei decenni passati. Una serie di problematiche legate alla posizione che è eccezionale, ma che è difficilmente raggiungibile, questo a secondo degli imprenditori, dei turisti, degli albergatori e di quelle categorie che ci hanno fatto l'onore di interfacciarsi con noi ed essere parte anche nostra in attività. Per cui crediamo che sostanzialmente ci sia da dare un'attenzione molto forte all'aspetto del raggiungimento della località balneare non intesa solamente per i due mesi estivi o i tre mesi estivi, ma per un turismo più annuale con una serie di eventi che sono diversi da quelli che si facevano una volta perché sono quello che è uscito dalle conferenze ormai vecchi. Per cui dobbiamo ricercare una traenza che sicuramente c'è, che ha bisogno di avere una strutturalità con degli spazi adeguati di ricezione, in questo caso mi riferisco agli alberghi e a tutti i settori di traenza. Sul fatto di riuscire e di tentare quantomeno di dare un supporto a tutti coloro che sono gli imprenditori locali a livello soprattutto turistico, anche a livello di aiuto economico nei canali bancari per quanto sia possibile per dargli un input diverso, per un inserimento diverso e con più potenzialità rispetto a quello che può essere finora. Quanto meno provarci per tentare di tornare, non dico ai vecchi albori perché sarà una cosa impossibile, ma sicuramente quanto meno tentare.